Allarme bomba questa mattina dopo le 10.30 nella sede provinciale dell'Agenzia delle Entrate a Pescara in Piazza Italia dove sono subito entrati in azione gli agenti della Polizia di Stato e gli artificieri che si sono subito portati all'interno dei locali che sono stati sgomberati di dipendenti ed utenti per motivi di sicurezza nel corso della bonifica dei locali. L'allarme come riferito sarebbe arrivato via fax in uno degli uffici della sede dell'Agenzia che si trova proprio di fronte Palazzo di Città. La bonifica dei locali è terminata intorno alle 13.00. Le indagini sull'accaduto sono affidate agli uomini della Digos diretti dal vice questore Leila Di Giulio. Dinanzi ai locali dell'Agenzia delle Entrate è arrivato anche il sindaco di Pescara Marco Alessandrini per sincerarsi dell'accaduto.